No, 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 colleghi, cortesemente abbassate i cartelli. Colleghi, no, colleghi, abbassate i cartelli. Chiedo ai commessi di intervenire cortesemente. Colleghi, abbassate i cartelli. Colleghi. Colleghi. Deputato Bonanno, la richiamo all'ordine. Deputato Bonanno, deputato Bonanno, la richiamo all'ordine. Deputato. Abbandoni i banchi del governo, cortesemente. Si allontani. Deputato Bonanno, la richiamo all'ordine. Deputato, dispongo l'allontanamento dall'aula del deputato Bonanno. L'ufficio di presidenza sarà investito di questo episodio. Deputato all'Asia, abbassi il cartello, cortesemente. La richiamo all'ordine. vero. sieux-peri-cheque.